Generale Dalla Chiesa, possiamo avere la conferma ufficiale della sua nomina, prefetto di Palermo? Questo duplice assassino si inquadra in qualcosa di molto più pasto. La vera questione che deve esistere in Sicilia è un solo potere, quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue regi. Quello fa sul serio. Il ricordo della strage di Capaci. Il giorno che Dalla Chiesa rompe realmente, faremo quello che si deve fare. TV2000 propone il film che ripercorre i cento giorni del generale Dalla Chiesa nel capoluogo siciliano. Cento giorni a Palermo. Non puoi rimanere qui. Venerdì 21 maggio alle 21.10. Ti chiedo ancora questo sacrificio perché so che puoi capirlo.